Multe per 1.073 euro nel Nisseno tra Mazzarino e San Cataldo dopo i controlli sulle violazioni delle mancate iscrizioni e l'anagrafe canina effettuati dalle guardie del WWF che hanno elevato le sanzioni e che successivamente sono state notificate ai sindaci dei comuni in cui sono state accertate e dal servizio veterinario regionale per ulteriori e successivi adempimenti previsti da legge. L'anagrafe canina con l'identificazione e la registrazione di tutti i cani di proprietà è uno degli strumenti principali per evitare la presenza di cani vaganti non controllati sul nostro territorio Nisseno ed è per questo che le guardie zoofile del WWF già da tempo svolgono in costante azione di vigilanza e prevenzione per fare in modo che l'obbligo di microcippare i cani venga rispettato da tutti i possessori di questi animali. Le guardie zoofile del WWF sono tutti volontari. Così il WWF continua nella situazione di contrasto per il fenomeno e del randagismo che ha anche un risvolto economico che grava sulle casse dei comuni che devono convenzionarsi con canili privati.